Giovani e belli danno filo da torcere ai loro colleghi stranieri. Elia Comitti e Fabio Mancini sono due modelli e sfilano sulle passerelle di tutto il mondo. Sono sei anni che lavoro quasi sempre con lui, quindi un onore per me è un privilegio anche. Poi da italiano è ancora più bello, perché penso che più grande di Giorgio Armani non penso che ci sia nessuno. Quanti anni sono che fa il modello? Sono esattamente cinque anni e mezzo, sei anni, della dodicesima stagione che faccio consecutivamente per Armani e anche per Bickenberg tra l'altro. Ma se l'aspettava così tanti fan? La verità è no, no no assolutamente no, perché da bambino è un po' come la storia del brutto natroccolo. Magari c'eravamo tanti ragazzini, il biondo con gli occhi azzurri, io magari con lo moro e l'ho tagliato un po' fuori. Però siamo qua, quindi non importa il passato per il momento. Il fatto di far parte dei 25 modelli top al mondo come italiano è una soddisfazione? È un onore soprattutto, perché rappresentare questo paese, questa nazione, penso sia la cosa più bella in assoluto. Lei sa che la sua è una professione a breve termine? Guardi, dico la verità, non ci penso per il momento. Non ci penso perché è un lavoro dove si ha la possibilità di conoscere tantissime persone tutti i giorni. Non ci penso, viva la giornata, per il momento è questo, mi godo il momento e mi godo questo momento con tutti voi, con tutti i fan, quindi meglio così. Siamo al made in Italy. Siamo al made in Italy.